Allora, Monica, proviamo queste siringhe deliziose. Beh, vediamoci qualcosa di buono là. Oh, sono d'accordo. Dai. Ci farò io. Come si farà? Un attacco all'Iedo. Abbiamo preso in giro. Adesso te ne prendi. Ti è piaciuto? Ma cos'è questa? Dove sono? Ma come mi vendicherò? Penso che ci aspetta una sfida molto interessante. È così. Ciao, ciao. Stavolta tocca a me aprire il coperchio per prima. Wow. Che bello. È blu. Ma vediamo com'è. Ma una penna? Ma cos'è questo? Un inchiostro? Mmm. È buono. Vediamo. Cos'altro? Che bello. Un sacco di caramelle. Ok. Adesso li mangerò tutti. Ma cosa vuoi fare? Rovenerà le caramelle? No. Io ne lasparò in una salsiccia deliziosa con il ripieno. Perché all'interno ci sarà lo sciroppo. Ecco. E così diventa ancora più buono. Wow. Il risultato è davvero bello. Ed è anche molto buono. È la cosa più buona che abbia mai assaggiato. Ma... Monica? Cos'è i suoi denti? Guarda. Cos'è? Aspetta. C'è io? Così. Molto meglio. E vai. E ora sono di nuovo bello. Emma, giocca a te. Cos'è? Un giocatore? Sembra divertente? Mi chiedo. Cosa ci sia dentro? Wow. Le caramelle. Ma che tante. Che delizie. Ora dobbiamo però capire a cosa serve questo giocatolo. Sembra piuttosto divertente. Ma non capisco. Come si fa a giocare? Ah! È un yo-yo! Che bello! Ah! Ma è forte! Ah! Che veloce! Ah! Dai, 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 dai! Ah! Che male! Che male! Che male! Non si ferma più! Vabbè! 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 Vado per prima io! No, io! Io! Vabbè! Ok! Vado per prima io! Che bello! Bottiglia rossa! Mi chiedo. Cosa ci sia dentro? Spero qualcosa di buono. Proviamo. Sì! È un succo molto delizioso. Per questa volta mi serve una bella tazza rossa. Ecco. È troppo freddo per essere bevuto da una musina normale. Eh, mamma, perché ci metti così tanto? Sbrigati! Eh, ma perché è brutto lì? Apri il tuo coperchio. Cosa? Mi hai lanciato? Adesso te ne prendi! Pensi di essere più intelligente? Ti sbagli! Ecco! Bevi! È buono! Ma cosa hai fatto? Posso aprire il mio coperchio? Ma cos'è? strano? La carta e le matite? Ma forse sono buoni? Sì! Ma cosa? Si mangia le matite e i fogli? Strano! Ma perché no? Se sono buoni, posso mangiarli! Non lo so, sembra meno strano. Ah, sei gelosi, me! Ok, ti farò un retratto. È un regalo! Cosa? Sono io? Perché il mio viso è così? Non mi assomiglia affatto! Beh, allora, ci farò un altro retratto. questo lo apprezzerai sicuramente. Cosa? Sono così? Ma sai cosa? È troppo! Hmm, verrai punita. Emma, vediamo se ti piace la... carta normale. Oh, che buona! Ma, che zaino è questo? Che è il sapore dolce? C'è qualcosa che non va! Asciò! È come se avessi mangiato una macchina vera! Asciò! Asciò! Il mio scherzo ha funzionato! Cosa ci aspetta in questo turno? Wow, che caramelle fantastiche! Ma hai visto prima? non vedo l'ora di provarle. Un lecca-lecca. È un succo! Buono! Posso mangiare la caramella e spettare il liquido. Oh no, l'ho mai vista prima! Nemmeno io! Solo che il pulsante si è rotto. Ora non spruzzo più! Dai, su! ma perché mi hai imbagnato tutta? Eh, ma mi dispiace, ma mi hai costruito a rovinare la tua delizia. sono solo il piume? Eh, vabbè, che mi faranno? È come se mi fosse caduto lecca-lecca sul... No! È disgustoso! Grazie, Monica! Vediamo quanto sarai sfortunata tu! Sfortunata? Ho interrobarato, lo dico, me ne masticare. Non è fantastico? Sono così blu e così deliziosi? Voglio masticarli tutti in una volta! E poi farli esplodere in un all gigantesca! Gigantesca! Cos'è stato? La gombra sembra averci adderito al muro. Ciao, ciao, Monica! Ti sta bene? Aiuto! Tiratemi fuori! È strano. Da dove vengo dalle urla? Sembra che non ci sia nessuno. Oh, Monica! Cosa ci fai qui? Sono attaccata al muro! Aiutami! Grazie mille, l'ho apprezzamato! Ups! Credo di aver lasciato per sbaglio una gomma sui tè. Spero che ti piaccia. Ma cos'è questo? Ma devo pulire tutto. Spero di avere qualcosa di buono! Spero di avere qualcosa di buono! Ok! Wow! Che bella pistola! Ah! C'è ovviamente qualcosa che non va. mi chiedo come si possa giocare con esso? È difficile. Dai! Non è fatto così! Deve solo sparare in alto! Fatto! Guarda! Ora questo disco volante volerà proprio sopra di noi! Dai! Devo prenderlo! Devo veloce! Fatto! Wow, Monica! Sta andando alla grande! Bravissima! Certo! ecco! Ma ci sono anche delle caramelle! Ma non le notate! Che buone che sono! Mi piace! Di cos'altro? Ho bisogno per essere felice! Dai, tocca a te! Già! Spero di essere fortunata anch'io! Assomiglia ad una canna una pesca così lunga! E c'è anche una caramella nascosta! Delle maniglie! Molto buono! Ma perché così pochi? Posso prendere il resto da sola? Uh! Pescato un pesciolino rosso! Sono un bravo pescatore! Penso che ci sia qualcos'altro là! Dai, affrittati! Spero di prenderlo! Wow! Qualcosa di veramente grande! Non ho forza per tirarlo fuori! Dai, Monica! Aiutami! Dai! Ti posso aiutare sempre! Vai! Ce la faremo! Tutto qui! Una semplice scarpa! Pensavo che sarebbe stata deliziosa almeno! Sì, non ho avuto fortuna questa volta! Anche l'interno è vuoto! No! Non è vuoto! Che male! Come fa un granchio sarlao! Il mio povero naso! Credo che questa scarpa è intoccabile! Il granchio ciao! Vai via! iscrivetevi a Multidoo Challenge così non vi perderete video più interessanti e scrivete nei commenti quale colore avete scelto rosso o blu ciao ciao ciao!